Pier Luigi Ferrara su Facebook. 6 aprile 2017. Che fine il quotidiano l'unità? Ha già deciso, da Rignano e ci. Chi è il colpevole del gas che ha ucciso civili e bambini in Siria in questi giorni, con la sua prima pagina di oggi che, mostrando una serie di foto raccapriccianti sul quello che è successo del prima detto in Siria titola. Se queste sono fake news, riferendosi alla risposta russa ai media occidentali, come se i russi avessero detto che ciò non è successo. Ci mancava Erdogan che arringa la folla turca contro Assad, riportato dai media come prova del fatto che anche lui Ankara sa chi è stato, e, l'alto commissario per le politiche estere della UE, come pomposamente presentano la Mogherini che ce l'ha con i terroristi, chi non ce l'ha. Presupponendo che si sappia chi sono e che non ci si deve arrendere mai, ma fatti una pausa, e ne dei r. Che se non è chiaro ora quelli dell'Isis li chiamano, dopo averli chiamati ribelli, oppositori al regime, con interviste a presunti medici, sicuramente lo saranno, che altro non dicono, come sono morti i prima detti, e cioè per via di un gas mortale. Naturalmente la fonte più accreditata è l'Organizzazione per i diritti civili in Siria, che, come ho già avuto modo di dire, ha sede in Inghilterra, mi sembra di ricordare a Birmingham o forse a Londra, in una casa di un malpancista esule dalla Siria. Che non si sa chi paghi lui e la sua rete di informatori, ma si sa che è vicino ad Al-Nusra, da cui sono fu riusciti taluniformando l'Isis. Grazie a tutti.